Grande partecipazione all'evento organizzato presso la sede del gruppo Tecniche Nuove dalle testate come ristrutturare la casa, imprese edili e GT, il giornale del termoidraulico, insieme a SAI e Bari. L'iniziativa conferma il forte impegno della nostra casa editrice nella divulgazione dei rischi dell'inquinamento indoor e delle buone pratiche per raggiungere il comfort domestico. Il tema sarà oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventi durante SAI e Bari, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019, alla Fiera del Levante. Saranno raccontati i trend in atto, le tecnologie, le soluzioni e i sistemi evoluti in grado di migliorare le prestazioni degli edifici e aumentare il comfort di chi li vive. Lo scopo è quello di creare maggiore consapevolezza sul benessere abitativo nell'utente finale, attraverso il contributo di tutti gli attori di un processo che va dalla progettazione alla costruzione fino alla gestione dell'edificio. Ulteriori approfondimenti sul tema saranno presto disponibili sui nostri canali.